Quattro sono i metodi per risolvere i sistemi di equazioni lineare. Sostituzione, confronto, riduzione e... Oh cavolo, qual era il quarto metodo? Ciao, io sono Claudio e tu sei su QI Matematica. Il quarto metodo per risolvere i sistemi di equazioni lineari è il metodo di Kramer, così chiamato dal nome del matematico svizzero del 1700 che l'ha ideato. Questo metodo richiede qualche strumento matematico in più rispetto agli altri metodi, per cui spesso non è neanche trattato a scuola. Ma il metodo è estremamente interessante e soprattutto va conosciuto perché è quello che i computer utilizzano per risolvere i sistemi lineari. Ok, prima di parlare del metodo di Kramer, dobbiamo parlare di matrici e delle loro determinanti. Una matrice è una tabella formata da numeri. Per il metodo di Kramer ci serviranno in particolare le matrici quadrate, in cui cioè il numero di righe è uguale al numero di colonna. Inoltre, visto che ci concentriamo sui sistemi di due equazioni in due incognite, vedremo matrici 2x2. In una matrice quadrata chiamiamo diagonale principale l'insieme dei numeri che vanno da quello in alto a sinistra a quello in basso a destra, mentre chiamiamo diagonale secondaria l'insieme dei numeri che vanno da quello in basso a sinistra in alto a destra. Le matrici sono oggetti molto interessanti, che hanno tutta una loro matematica, ma oggi a noi interessa una sola operazione, il determinante. Prendiamo allora una matrice quadrata 2x2. Per indicare che vogliamo calcolare il determinante, mettiamo a sinistra a destra della matrice delle righe dritte. Ebbene, il determinante è un numero che per matrici 2x2 otteniamo in questo modo. Dobbiamo fare il prodotto tra i numeri della diagonale principale a cui sottraiamo il prodotto dei numeri della diagonale secondaria. Ripeto, questo è il modo per calcolare il determinante di una matrice 2x2. Per matrici più grandi ci vuole una tecnica più complessa, ma per oggi non ci servirà. Proviamo a rifarlo usando delle lettere. Chiamiamo A1 e B1 i valori della prima riga, A2 e B2 i valori della seconda riga. Per calcolare il determinante, moltiplico i numeri della diagonale principale, quindi A1 e B2, scrivo meno, e poi moltiplico i numeri della diagonale secondaria, quindi A2 e B1. Quindi il determinante di una matrice, una tabella di numeri, è un singolo numero. A cosa ci serve tutto questo? Consideriamo un sistema di due equazioni in due incognite. Per partire con il metodo di Kramer, prima devo scrivere il sistema in forma normale. Quindi semplifico le espressioni, compio gli opportuni trasporti e somme, in modo da avere le incognite nei membri a sinistra, con i loro opportuni coefficienti, e i termini noti nei membri destri. Quindi, prima operazione, scrivere il sistema in forma normale. Poi, secondo passaggio, costruisco una matrice con i coefficienti delle incognite. Avendo due equazioni in due incognite, otterrò una matrice quadrata 2x2. Terzo passaggio. Calcolo i determinanti di questa matrice. Chiamo di questo determinante. Quindi moltiplico i numeri della diagonale principale, a cui sottraggo il prodotto dei numeri della diagonale secondaria. Ottengo un numero, che già ci dà un'informazione importantissima. Se il determinante di questa matrice è diverso da zero, il sistema sarà determinato. Se invece il determinante di questa matrice è uguale a zero, il sistema sarà indeterminato o impossibile. Immagino che a questo punto comincerai a domandarti, ma perché? Perché usare le matrici? Perché le matrici ci danno queste informazioni? Abbi pazienza. Dopo il metodo ti spiegherò le motivazioni. Ora, dobbiamo costruire altre due matrici, ottenute in questo modo. Nella prima, sostituiamo la prima colonna con i termini noti del sistema. Ti faccio notare che la prima colonna conteneva i coefficienti dell'incognite x del nostro sistema, per cui chiamiamo dx il determinante di questa matrice. Nella seconda matrice facciamo la stessa sostituzione, ma nella seconda colonna, quella che conteneva i coefficienti dell'incognite y, per cui chiamiamo dy il determinante di questa ultima matrice. Cosa ci dicono questi due determinanti? Se il determinante di della prima matrice era 0, allora devo guardare se anche questi due ultimi determinanti sono uguali a 0. Se sono uguali a 0, allora il sistema è indeterminato. Se invece sono diversi da 0, allora il sistema è impossibile. E se invece uno è uguale a 0 e l'altro no? Beh, c'è un teorema che dimostra che questo è impossibile. O tutti e due i determinanti sono nulli o tutti e due non lo sono. Non è possibile averne 1 nullo e 1 no. Se invece il determinante di non è 0, come nel nostro caso, allora questi nuovi determinanti mi permettono di calcolare le soluzioni del sistema, perché il valore della x sarà pari a dx diviso d, mentre il valore della y sarà pari a dy diviso d. Fine del sistema. Quindi riassumiamo il metodo di Cramer. Parto da un sistema in forma normale. Calcolo il determinante D della matrice costruita con i coefficienti dell'incognita. Calcolo poi i determinanti delle matrici costruite sostituendo le colonne della prima matrice con i termini noti. Chiamo dx e dy i determinanti di queste nuove matrici. Ora, se D, dx e dy sono uguali a 0, allora il sistema è indeterminato. Se D è uguale a 0, mentre dx e dy non lo sono, allora il sistema è impossibile. Se invece D è diverso da 0, allora possiamo calcolare le soluzioni. x è uguale a dx fratto D, y è uguale a dy fratto D. Ti chiedo solo un ultimo minuto per mostrarti di dove salta fuori tutto questo metodo. Il tutto emerge se tentiamo di risolvere il sistema algebricamente utilizzando le lettere al posto dei numeri. Per la precisione vogliamo risolvere il sistema con il metodo di riduzione. Vogliamo trovare il valore delle x, per cui dobbiamo fare in modo che i coefficienti dei termini in y siano uguali. Come devo fare? basta moltiplicare i membri della prima equazione per B2 e i membri della seconda equazione per B1. In questo modo, in entrambe le equazioni, i coefficienti dell'incognito y non sono diventati B1 per B2. Ora, sottraiamo la seconda equazione alla prima equazione, prima meno seconda. Otteniamo questa espressione. Ora, confronta il nuovo coefficiente della x e il termine noto con i determinanti che abbiamo calcolato prima. Noti che il coefficiente della x è uguale al determinante della prima matrice, quello che abbiamo chiamato D? E noti che il termine noto è uguale al determinante Dx, quello ottenuto dalla matrice in cui, al posto dei coefficienti della x, abbiamo messo i termini noti? Per cui otteniamo l'equazione D per x uguale Dx. Come possiamo trovare la soluzione di questa equazione? Se D uguale a 0 e Dx uguale a 0, allora l'equazione sarà indeterminata. Se D uguale a 0 e Dx diverso da 0, l'equazione è impossibile. Se invece D è diverso da 0, allora l'equazione sarà determinata e il valore della x pari a Dx fratto D. La stessa cosa la possiamo ripetere per la y e dimostrare così la validità del metodo di Kramer. Ora, come possiamo automatizzare questo metodo e insegnare al computer come risolvere sistemi lineari di due equazioni in due incognite? Questo lo vedremo nel prossimo video. Ciao! Grazie a tutti!